Ciao carissimi, questo è Electric O come mi chiama mia mamma da quando sono nato, Electric Oggi siamo tutti qui riuniti per portare al termine un altro SuperTuber Così come abbiamo qui, quindi lanciamo subito la sigla Supereroe O super cattivone Andiamo subito a vedere le votazioni Il più votato questa settimana di youtuber da trasformare in supereroe o super cattivo E' proprio Stepney Che in 1700 avete votato chi sia tra supereroe e super cattivo Ben il 76% super cattivo vuole questo Stepney super cattivo Ma andiamo a vedere i poteri molto velocemente Fuoco, dati i lavori che ho fatto per me di solito è questo Come ad esempio l'outro di Stepney, utilizziamo il fuoco In alcuni foto editing abbiamo utilizzato il fuoco Di solito a lui ha abbinato il fuoco, ma non ha vinto per poco Dio del tuono, tipo Thor, perché un vecchio disegno lo raffigurava così Vendicatore con armi, tipo The Punisher L'ho buttato lì così perché non me ne venivano in mente altre Scomposizione del corpo, tipo Capitano Buggy di One Piece 51% che vince Non so se avete presente ma lo andiamo subito a vedere Il Capitano Buggy di One Piece ha questo potere che gli permette di scomporsi Staccarsi e dividersi Come accidenti vuole lui Ed è questo il potere che appunto daremo al nostro caro Stepney Di cui andiamo subito a prendere le immagini di riferimento Anche se lui avendo dei tratti così caratteristici di solito Non ho bisogno di immagini di riferimento Ma noi in questo canale le cose le facciamo fatte bene Quindi per sicurezza due fotine ce le buttiamo Ma questa dovrebbe essere la foto di Bologna Ce la prendiamo? Ce la becchiamo? No è di Firenze in realtà Comunque con queste siamo più che a posto Quindi come al solito bando alle ciance e iniziamo Carichi questo super tuber Spero che proviate anche voi a farlo Così che io possa vedere su Instagram Tanti bei disegnini Quindi innanzitutto quello che vado a fare è sempre Una cosa essenziale per l'essere umano Che è il cosiddetto cranio Per chi ha problemi di pronuncia lo può anche chiamare craino Vorrei una posizione bella dinamica Tipo spalle alzate Trapezio qui dietro Bacino inclinato Attenzione Vediamo cosa esce fuori Perché voglio alzare questa gamba Di parecchio poi Tipo così Tipo posizione Non lo so Oh sono stato piuttosto veloce oggi con la posa Di solito ci perdo molto più tempo Ma come ho detto Dobbiamo scomporlo Quindi io farei un taglio qua Tipo al busto Appunto tipo capitano buggy Un taglio qua Forse anche due qui Non saprei E un taglio qua sul polso Un taglio qua Uno qua Uno qua Vogliamo fare il busto un po' a panino? Perché potremmo fare un altro taglio qua Un taglio qui All'altezza della caviglia E un leggero taglio qui E uno qua Scomponiamolo parecchio Non so se staccare anche la testa Perché dopo potrebbe venire Leggermente bruttino O piuttosto ambivo Ci proviamo Perché quello che farò adesso Sarà appunto scomporlo Pezzo dopo pezzo Quindi appunto Pezzo uno Eccolo lì Pezzo numero due Stiamo andando a fare delle manine Con una posizione bella Creepy Come dire Particolare Quindi adesso questa mano Gli troveremo una posizione Presto o tardi Intanto stacchiamo anche questo braccio E qui dovremo fare un'arma Un qualcosa con cui appunto Può far del male Quindi per ora ci buttiamo un coltello così Poi lo definirò Capirò cosa sarà Non lo so ancora Andiamo a staccare il corpo Anche se di solito Chi stacchi il corpo in questo modo Di solito non sopravvive Ma il potere è questo La capacità di sopravvivere Una autoamputazione E di ricomporsi appunto Questa è la nostra ultima divisione del busto La gamba E qui il piede che come O simile al capitano Gabby Gabby Buggy scusate Gabby Ok E' giusto che abbia un'arma Tipo appunto il capitano Buggy Che ha delle lame sulle scarpe Perché se no Che se li stacca a fare i piedi Se questi non possono far male Uccidere Attaccare comunque sia Una signor suola Della scarpa E finalmente andiamo a definire Il nostro viso Signori Il viso che Sai com'è E' fondamentale Per far capire Di chi stiamo parlando Vado prima con il naso Che è uno dei tratti più distintivi Di Stefano Sempre stile molto marvelliano Come abbiamo deciso di fare Per tutti questi disegni Ghigno super cattivissimo Anche perché se il ghigno Non è super cattivo Perché dovrebbe essere Un super cattivo E un super cattivo Facciamo anche il ghigno Bello cattivo Voglio fare gli occhi belli Spalancati tipo da pazzo Siamo tutti pazzi Da pazzo proprio Guarda Più pazzo di così Si muore Man vedi te Che bel viso che mi è venuto subito Con Stepney vado sempre sul sicuro E almeno per me Il mates Uno dei mates Più facili da disegnare Quello che becco subito Sono fin troppo abituato A disegnarlo ecco Per ovvi motivi Adesso per i capelli Dobbiamo davvero esagerare Nella follia di questi Nel movimento Nel vento Nella follia in generale Se così mi piace Mi piace Minchia come mi piace Non in quel senso Stefano per carità Non ci allarmiamo Non ho questi tipi Di piacere o cose Non vorrei essere frainteso Poi magari mi ritrovo Stefano sotto casa Che mi vuole Però dipende Per cosa mi vuole Se per fare qualcosa Tra amici O di più Perché sai Ok cambiamo discorso Adesso dobbiamo decidere Se mettere gli occhiali O mettere tipo una maschera Da cattivo Tipo così Perché la maschera Tipo da cattivo Ci sta bene Però so che gli occhiali Sono un qualcosa di importante Per contraddistinguere Stefano Non che Stefano Senza gli occhiali Non sia nulla Non sia nessuno Improvvisamente Io senza i miei occhiali Non sono gli occhiali No Don't touch my glasses Tipo ti immagini Stefano devi mettere lenti a contatto Per questa scena Cosa hai detto? No Già mai Senza gli occhiali Non sono io Gli occhiali sono Stefani Non io Non capisci Frank ma come ti viene in mente Nei miei occhiali Ci sono la mia anima Nella mia anima Ci sono gli occhiali La mia anima Indossa occhiali Ok stiamo esagerando Sto esagerando Voi che c'entrate Sono io quello folle Qui che dice cazzate Ok due vitine Una Due Avevamo deciso di staccare anche la testa Farei giusto la prova Non saprei È un po' troppo creepy Mi sa Fa quasi senso Però è questo l'obiettivo Dopotutto è un super cattivo I super cattivi Devono fare un po' senso Adesso dobbiamo decidere Però più o meno Come fare l'abbigliamento complessivo Classico suo È la super di Cioè la S Di superman Che poi indicava Stepney in realtà Quindi lavoreremo su quello Eccola qui Precisa Super scomponibile Questo è il nome Del cattivo Doppia S Allora ci vorrebbe quasi Scomposizione Man Bene signori Secondo me ci siamo Questo è il design perfetto Non metterò nessun mantello Né elemento Del genere Perché mi piace l'idea Che risalti così bene Il corpo che si scompone Quindi voglio che sia Una tuta bella attillata Ma lo decideremo Soprattutto adesso Con l'inchiostrazione Che farò iniziare Immediatamente Quindi preparatevi A tanta musichetta Magic Inchiostrazione Via Grazie a tutti Ecco qui l'inchiostrazione è finita, mi sembra un ottimo risultato, mi sono divertito molto con gli occhiali, si capisce? Si potrebbe giocare davvero molto con il nero per questo stile marvelliano, però come ho detto non vorrei metterci una giornata intera per fare un disegno, in media già questi disegni mi stanno prendendo dalle 3 alle 4 ore, forse anche 5 a volte, quindi acceleriamo, passiamo subito al colore, in cui invece di mettere dei peo ballerini questa volta metterò dei peo che mangiano del pane senza niente, pensa un po' te. Cioè pane a secco, così ci saranno dei peo carini, tutto qua. Colorazione, inizio! Musica Musica Bene bene bene, ora sì che ragioniamo. Questo sì che è un signor colore, signori miei, c'è una bella luce gialla che sembra essere un po' il potere che prende il controllo di ogni parte del corpo di Stefano, ha questi occhi con questi raggi gialli che danno l'impressione di qualcuno di quasi posseduto. Mi piace da morire il risultato, lo sfondo pure tutto. Potrei sbilanciarmi e dire che questo fino adesso è il più figo che ho fatto? Secondo i miei personali gusti, ma ditemi voi nei commenti qual è fino adesso il vostro preferito di questa mitica serie hashtag supertuber in my house. Ma soprattutto, se vi è piaciuto questo disegno o questo video, mi raccomando, mostrate tanto tanto love, tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Provate anche voi a fare questi disegni e taggatemi, sarò più che felice di vederli. Ma è l'importante è che fino adesso non vi scordiate che avete trascorso gli ultimi dieci minuti con il carissimo vostro Electric. Addio. Addio. Grazie a tutti!